Buongiorno Mr.Lynch, è settembre 2021 e è Saturday qui in Naples, 72 Fahrenheit, around 22 celsius e questo significa che è una giornata veramente mite 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 mite, si espira una bella aria, c'è veramente un'atmosfera molto piacevole, con un buon vento, oggi non pensava a nulla in particolare, volevo solo ringraziare in anticipo per una delle sue frasi cult, quella sui progetti del weekend e quindi ricambiare anche per i suoi, quelli che avrà lei, ma in fondo sono sempre i stessi progetti alla settimana, almeno per quanto mi riguarda. Detto questo, come forse le mostrerò alla finestra, tra today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, perché come ha visto c'è un sole ma ci sono anche le nuvole in questo momento quindi non si comprende bene qual è il tempo e quale sarà per le ore successive e staremo a vedere. Io penso posso posso annuvolarsi ma vedremo, ma vedremo, as always, we will see. So, from the mythical window with the colored curtains and its green shooter, not visible here in this moment today, but behind me today, it's beautiful, colored curtains, and finally, from my mythical keyboard, have a great day, him and everyone too. and then we'll see you in the next video. So, we'll see you in the next video. So, we'll see you in the next video. so, we'll see you in the next video. Grazie.